Ma c'è stato qualcosa tra Jenny Serpi ed Alberto Tozzi? Ecco che cosa abbiamo scoperto. Da sempre tutti noi abbiamo scippato insieme Jenny e Alberto, ma entrambi hanno sempre dichiarato di essere solamente amici. Durante una live fatta di recente, Jenny però ha rivelato un particolare di cui nessuno era a conoscenza. Alla domanda ma c'è stato qualcosa con Tozzi, lei ha risposto che effettivamente un qualcosina tra di loro c'è stato. E ha detto un bacio e niente più. E' un bacio e niente più. Ma io ho sempre detto che non è niente più. Però sì, ma sì, ma sì, ma sì, però... Tozzi ha quindi deciso di commentare con una risata con scritto Ma che dici? Insomma, anche se sono solamente amici, sembra proprio che un qualcosa tra di loro c'è stato. Fateci sapere che cosa ne pensate di questo duo e dalla redazione di Webbo per oggi è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video.